Giuseppe Forenzi, giovane pilota di Verbenno, lo scorso fine settimana ha trionfato a Monza nella sua prima gara nel campionato italiano Gran Turismo Sprint Cup, alla guida di una Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo 2, correndo per il team Invictus Corse di Maranello. Assieme all'altro pilota, Edoardo Barbolini hanno conquistato il secondo crono di categoria in entrambe le qualifiche, segnando l'ottavo posto assoluto. La prima gara è stata interrotta dopo solo 17 minuti a causa di condizioni di scarsa visibilità, il che ha ritardato l'esordio di Forenzi fino alla gara 2, in programma la domenica pomeriggio. Nella gara 2 Forenzi ha finalmente debuttato, affrontando la sfida con determinazione. Partendo bene è riuscito a recuperare diverse posizioni, grazie ai numerosi sorpassi e a un ritmo sostenuto, chiudendo la sua frazione al secondo posto di categoria e quinto assoluto, registrando anche il terzo tempo più veloce in gara. Al cambio pilota, Barbolini ha mantenuto la posizione, evitando un potenziale incidente e assicurandosi il primo posto nella categoria M. Questa vittoria segna un traguardo significativo nella carriera di Forenzi, che ha potuto esprimere tutto il suo potenziale, grazie alla preparazione meticolosa e al feeling instaurato con il team Invictus Corse e il suo compagno di squadra. Grazie a tutti!